Ciao ragazzi, siamo tornati in un nuovo video speciale 20 iscritti me ne sono un po' accorto adesso che non ho 21 quindi saranno lo speciale 21 iscritti e per lo speciale di 21 iscritti mangeremo la pizza e te che bella la mia pizzeria in alto a sinistra Five Nights at Freddy's ancora vedi con la pizza d'asino? probabilmente non a lungo, domani è il giorno nazionale di mezza e mezza ma per te probabilmente significa due metà di un completo fallimento andiamo sul tablet e discutiamo le nostre cose va bene, andiamo qui peperoni e salsiccia ma senza la salsiccia perfetto, quindi faremo una pizza con il pomodoro e poi alla fine video farò una pizza per noi, cioè così a casa e la darò un cliente e ha detto i peperoni peperoni e salsiccia ma senza salsiccia quindi abbondiamo di peperoni perfetto andiamo più veloce tanto siamo più soliti guarda che è cotta guarda che è cotta stiamo qua e la tagliamo perfetto stiamo qui la scatola della torre inferno cioè della torre inferno ho sbagliato della statua della libertà mi sono confuso scusate scusate che cosa, che cosa va bene così va facciamo così e intanto ci mettiamo già il pomodoro perchè questa è sempre il pomodoro so che non è una pizza per favore fammi una pizza con salsa mozzarella salame piccante allora iniziamo subito con la salsa mozzarella salame piccante ok salsiccia poi cosa ho chiesto salsicce salame piccante funghi olive salame piccante l'ho già messo funghi olive e poi cipolle e peperoni cipolle e peperoni eccoci qua la pizza con tutti gli ingredienti ok ora c'è pronta la pizza la tagliamo cipolle ci va cipolle vabbè 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 è che che gli diamo cipolle 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 posso avere un'olta ma sì eccezionale va bene io l'ho sposto di sì ma non so come farglielo me lo dog ho sbagliato a rispondere come li faccio lo dog va beh lo dog li mettiamo questi facciamo finta che il booster poi questa è la senape poi c'è il ketchup un po' di cipolle un po' di sassi un po' di caperone e le oliva e cuociamo questo dog vado a me è un buono dog io l'ho spiegato perfettamente ma ti piace questo dog? questo non è un dog lo sapevo io ho provato che cosa va bene ok voglio una pizza con salsa mozzarella e funghi ed un'altra salsa mozzarella e funghi l'ho già capito perché anche a me è successo l'altra volta così possiamo fare altro salsa mozzarella e altri funghi andiamo e la cuociamo guarda che è pronta andiamo qui lo tagliamo andiamo qua e chiudiamo qua ah sono le 10 perfetto non ci credo si è bugato una volta succede questo bugato ora ci sono due cazzo un po' di pazzo scusate non si pagano i giochi sono tanti funghi e ecco ciao vedete che sotto ce n'è uno e sopra un altro non lo so perché è successo questo casino anche prima quando ci ho toccato un po' io adesso volo allora si chiude e va due pizze le abbiamo andiato guardate mi voglio sbaciucchiare bene questa cazzo perfetto ehm guarda che abbiamo finito meno un euro se soltanto le volevo dire che non farò più vizio su pro stas perché a me non mi piace tantissimo quindi non lo farò più però potrò portare i video su questo e più avanti potrò i video su kaloszuki per non farlo intanto continuiamo a fare le nostre pizze e questo giorno sarà un giorno di pizze alla nico07 si cosa mi ha chiesto? non hai soldi ma ti farò un regalo speciale a casa di una pizza offerta dalla casa va bene se ci fa un regalo le farò la pizza va bene se ci fa un regalo le farò la pizza ah nico te lo fatevo ok io la faccio sempre così quando voglio farla io me la ricordo no? si ok un peperone però ci devo mettere tanta carne perché ai signori luci mi piace tanto la carne ok andiamo alla fine a casa prendiamo un po' ok a noi luci ci piace prendiamo un po' grazie mille questo è per te va bene abbiamo una piantina che bello non dimenticarti di farlo tutti i giorni vi passerò più tardi voglio andare a affiarlo di nuovo no 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 facciamo già l'impatto un po' un po' un po' un po' un po' Sì la pizza è di qualcun altro non voglio mozzarella di mozzarella eh mamma mia mezza salsa mezza salsa mozzarella 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 e cipolle funghi cipolle e funghi e gliela diamo un po' piccolino va bene stai giocando devi far niente questa è una fase mi scusa ma chiamato metà salsa prendo due piccoli ok ragazzi facciamo una cosa questa qua è l'ultima pizza l'ultima pizza voglio fare la pizza tanta pizza tanta mozzarella la pizza definitiva questo è l'ultima pizza 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 tantissimo salame anche tante pasticcia tanti funghi poi deve ingrassare tante olive e poi tante cipolle e tanti peperoni ora la cuociamo solamente una volta velocissimo per messere tra i cuori e la tagliamo in un modo strano io la continuiamo a tagliare 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 piccolissimi questa è la sua pizza signora e poi le dà pure in omaggio con mezzo salsa e mezzo mozzarella poi questo un altro in omaggio un altro in omaggio le do tutte due alla pizza molto pizza e poi questo un omaggio più piccolino due pizza e gliene diamo due com'è? si ma sai l'altro ok ragazzi per questo video è tutto questa signora signora dobbiamo chiudere mi spiace venga un altro giorno dobbiamo chiudere e per questo video è tutto e noi finiamo con e guardate a pochissima notizia guardate il mypad sono le 9.15 e noi ci vediamo in un prossimo al prossimo